ecco la passeggiata con le renne sono gestiti da una vera famiglia di sami vicino a idolo in finlandia c'è davanti il bosch che cammina e comanda, guida la prima renna, la slitta legata alla prossima renna dietro c'è la slitta e dietro di noi c'è con la corda legata alla prossima renna un'altra slitta così come si usava nei vecchi tempi